Incontri, colloqui, scambi di curriculum, nella palestra dell'ITI Bonarotti di Trento gli studenti guardano al futuro, dice il preside Giuseppe Rizza. Abbiamo 18 classi quinte che interagiscono con le aziende, con le realtà produttive, con gli enti formativi per continuare a costruire un futuro per la loro vita, per la loro formazione. Presenti una trentina di aziende a caccia di giovani talenti tecnici. Buone notizie, il lavoro c'è, le aziende hanno bisogno di questi ragazzi e devo dire che quest'anno ho notato molta motivazione in loro e anche una voglia, una marcia in più, una voglia di fare che era da un po' di tempo che non si vedeva. Noi tutti gli anni andiamo ad inserire un sacco di ragazzi e ragazze. Cerchiamo il talento, cerchiamo la passione, cerchiamo la voglia di mettersi in gioco. Matteo si è diplomato qui l'anno scorso ed è già dall'altra parte del banchetto. Questa volta è stato lavoro a cercare me, proprio dalle banche dati delle scuole, sono stato prelevato dall'azienda e sono venuto l'ora proprio a cercarmi. Sono i nuovi tecnici, i giovani a cui il futuro non fa paura. Il futuro è lì che ci aspetta, io sarò pronto ad accoglierlo spero. Credo di andare a lavorare, continuo con il lavoro e in caso per studiare si studia dopo. È sempre un non si trova lavoro, non si trova questo, non si trova quello. Forse questa paura si è un po' abbassata.